60 seconds del giovedì sera, cari amici lo so, ne ho parlato ieri ma domani ne scriverò il fondo in particolare della ragione e quindi voglio tornare sul tema Green Pass. A proposito della ragione, grazie a voi tutti, dell'attenzione, delle critiche, della partecipazione vi ricordo in edicola dal martedì al sabato 50 centesimi di euro per sempre gratuito il quotidiano invece su www.laragione.eu soltanto con la semplice registrazione e non l'altro al sito. Allora ne scriverò, dicevo, domani ne scriverò in particolare il fondo della ragione del venerdì, questo perché? Perché c'è una sola domanda che io vorrei fare, il contesto lo conosciamo, l'ho già ricordato ieri c'è questo richiamo alle libertà fondamentali dell'individuo che verrebbero intaccate nel momento in cui se non hai il Green Pass cioè non ti sei vaccinato non puoi andare a un concerto o uno stadio o quel che sarà, vedremo io ho la sensazione che Draghi alla fine seguirà la strada di Macron ma questo è un altro discorso, un altro 60 seconds. La domanda di oggi è molto semplice, per chi è contrario e sostiene che c'è questo rischio per le libertà individuali ma, mentre vi saluta Riccardino qui, ma quale sarebbe l'alternativa per garantire le libertà che abbiamo faticosamente riconquistato? ditemelo, scrivete, commentate, interagiamo, dibattito che stiamo portando avanti sui vaccini per esempio sulle pagine della ragione, qual è l'alternativa al Green Pass per stadi, concerti, viaggi, treni, aerei eccetera eccetera a domani, attento